Allora, io non sono razzista, però c'è un problema di fondo. Lo you solely. Questo you solely non va bene. Perché non va bene? Perché con la scusa di non essere razzisti non possiamo dare a tutti tutto. Adesso nel 2017 c'è la moda di accontentare tutti, perché se no si scatenano i putiferi. Io quando sono nato negli anni 80, sono nato in ospedale e a me nessuno ha riconosciuto il titolo di medico, nonostante io sia nato all'interno di un ospedale. Adesso stiamo nel 2017, 30 anni dopo, e ci siamo impazziti, perché tutto è dovuto. Tu nasci in Italia e automaticamente io ti dovrei dare la cittadinanza italiana. Allora, quando mi daranno la mia laurea in medicina, sarò disposto ad accettare anche la cittadinanza italiana a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.